Padre Cristoforo esce dal convento di Pescarenico, una terricciola sulla riva sinistra dell'Adda. Si avvia verso la casetta di Lucia. Il sole che andava sorgendo illumina un lieto scenario d'autunno rattristato però dallo spettacolo degli esseri umani incontrati, testimoni di un periodo di carestia e di miseria. Padre Cristoforo, prima di essere frate, era figlio di un ricco mercante, che divenuto nobile per censo, voleva far dimenticare l'antica professione, quasi si vergognasse del tempo speso nel lavoro. Aveva una specie di idiosincrasia per qualsiasi allusione anche indiretta al mestiere di mercante. Suo figlio Lodovico crebbe in un ambiente di distinzione e ricevette una buona educazione intellettuale e civile. Era di carattere orgoglioso ma tendenzialmente onesto e non avrebbe mai abusato della sua forza e della ricchezza contro i deboli. Lodovico un giorno, mentre andava per una strada di Cremona, sua città, accompagnato da due bravi e da un fedele servitore di nome Cristoforo, incontrò un signorotto prepotente, seguito da quattro bravi. Per la strana consuetudine del dar passo, i due scontratisi misero mano alle spade. Cristoforo, slanciatosi in difesa del padrone che era stato ferito, cadeva sotto la spada del prepotente. Lodovico, a quella vista come fuor di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore. L'uccisore viene accompagnato subito dai suoi simpatizzanti in un convento, luogo d'asilo impenetrabile alla forza pubblica. I frati lo accolgono, lo medicano e appena egli si riprende dal terribile shock, li comunicano che il suo rivale è morto perdonando e chiedendo perdono. Il soggiorno nell'infermeria del convento ridestò nel suo animo un desiderio altre volte vagamente sentito di rinunciare al mondo e farsi frate. Il padre guardiano, al quale confidò il suo proposito, li raccomandò di cautelarsi contro le decisioni precipitose. Ma in via di Massima non si oppose al suo desiderio. Lodovico provvide anche a sistemare la famiglia del servitore Cristoforo e a trent'anni vestì l'abito dei cappuccini prendendo il nome del servitore ucciso. Fra Cristoforo, prima di partire per il noviziato, chiese al guardiano di potersi recare a domandare scusa al fratello dell'ucciso per levargli il rancore dall'animo. Il gentiluomo fissò l'incontro per il domani ripromettendosi una soddisfazione solenne e clamorosa. Fra Cristoforo all'arrivo notò tutto l'apparato e accettò l'umiliazione come riparazione. Il gentiluomo però, alla vista del frate inginocchiato, sentì sciogliersi l'ira compressa nel suo animo e finì per abbracciarlo, dando e ricevendo il bacio di pace. Fra Cristoforo, quale pegno del perdono, chiese ed ottenne un pane che ripose nella sporta.